Senza paura e libertà, il cristiano ha la saggezza di discernere i segni dei tempi. Nell'omelia della messa celebrata nella cappella della Casa Santa Marta, Papa Francesco ha rimarcato che nel silenzio, nella preghiera e nella riflessione, ciascuno è capace di capire come cambiano le cose nella storia e cosa Gesù vuole dirci. I tempi cambiano e noi cristiani dobbiamo cambiare. Continuamente Dobbiamo cambiare saldi nella fede in Gesù Cristo, saldi nella verità del Vangelo. Ma il nostro atteggiamento deve essere continuamente, deve muoversi continuamente secondo i segni dei tempi. Siamo liberi, siamo liberi per il dono della libertà che ci ha dato Gesù Cristo. Il nostro lavoro è guardare cosa succede dentro di noi, discernere i nostri sentimenti, i nostri pensieri. E cosa accade fuori di noi è discernere i segni dei tempi, col silenzio, con la riflessione e con la preghiera.